Ieri sera a Gualdo Tadino in Piazza Mazzini è tornato l'atteso appuntamento estivo dell'elezione di Miss Rocchetta Bellezza Umbria. Titolo importante che dà alito alla finalissima regionale di Miss Umbria, porta di accesso alle pre-finali nazionali. Zeudi Di Palma, madrina dell'evento nonché Miss Italia 2021, ha incoronato come di consueto la vincitrice del concorso gualdese. Cecilia Alma Levita, giovane di origine campane, che risiede attualmente a Togli. Io dall'inizio non mi aspettavo minimamente di vincere, però sono stata veramente contentissima. Miss Italia è un'esperienza bellissima che consiglio a tutte le ragazze che vogliono intraprendere questo percorso. Le altre ragazze erano fantastiche, assolutamente non c'era concorrenza né aria di sfida, erano delle ragazze magnifiche e mi sono fatte delle nuove amiche, molto volentieri. Zeudi Di Palma, giovane modella campana classe 2001, intraprese il suo percorso a Miss Italia il 10 settembre 2021 con la vittoria del titolo di Miss Napoli, con cui ottenne poi l'accesso alle pre-finali nazionali di Miss Italia 2021 e il 13 febbraio 2022 la vittoria alla finale della 82esima edizione di Miss Italia. Me l'aspettavo perché lei già l'avevo incontrata in un'altra tappa, questa ragazza è meravigliosa, i contenuti che ovviamente ha fatto fuoriuscire, la sua delicatezza, la sua bellezza. Mi è piaciuta la vincitrice.